Sono state prorogate fino al 31 dicembre 2019 le agevolazioni tariffarie per il servizio di trasporto pubblico varate dal Comune nel 2018. Si tratta dei contributi per gli abbonamenti studenti e ordinari per i residenti, con ISEE fino a 12.500 euro, decisi dall'amministrazione dopo l'entrata in vigore del nuovo sistema tariffario regionale. Un rimborso diretto da chiedere all'amministrazione che di fatto ha azzerato gli aumenti scattati l'anno scorso, in particolar modo per quanto riguarda gli studenti. Ad oggi le richieste dei cittadini accolte sono state 1.344.